In categoria Master Turato, Jacopo, Panther Voice in seconda posizione. Alberto, l'è la certa se non fatto fin a prendere il comando in questo momento, in seguito da Cotta, Cotta, Alessandro, Del Vigevano in prima posizione, grandissima curva da parte dell'atleta di casa che si porta immediatamente al comando. E in ultima linea va a chiudere in prima posizione questa finale B. Finale BG2